L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto effetti anche sulla criminalità. Infatti, secondo i dati forniti oggi dalla questura di Pesero Urbino, emerge che i reati rispetto al periodo pre-pandemia sono calati. Ma non tutti. Dal 1 aprile 2021 allo scorso 31 marzo, la Polizia di Stato ha denunciato o scoperto oltre 2.400 delitti contro i 2.300 dell'anno precedente. Più di 700 sono le persone denunciate in Stato di libertà e 114 quelle fermate o arrestate. Più nel dettaglio, non hanno subito particolare variazione le violenze sessuali e i reati contro la persona, ad eccezione delle lesioni idolose, passate da 84 a 106 casi. In leggero aumento anche i furti, ma sono in calo quelli compiuti nelle abitazioni. Le rapine invece passano da 19 a 30 casi, con un incremento di quelle consumate in strada, in lieve discesa i danneggiamenti, mentre i reati connessi al traffico di stupefacenti restano invariati. Nello stesso periodo, più di 12.000 cittadini hanno chiamato alla sala operativa della Questura e grande attenzione è stata posta nei confronti del fenomeno emergente delle cosiddette bande minorili. L'attività della Polizia ha consentito di disarticolare alcuni dei sudalizi ed eseguire arresti, fermi e custodie cautelari emesse dall'autorità giudiziaria. Rispetto al 2020, nel 2021 c'è stata una grande riduzione dei reati, dovuto soprattutto alla scarsa mobilità. Sono aumentati invece i reati di genere, i reati informatici soprattutto, perché stando più in casa. E poi preoccupante è il dato sulla violenza minorile. Minorile, l'ultimo anno in particolare, i ragazzi minorenni sono stati protagonisti e responsabili di episodi incresciosi. Incresciosi spesso dettati a loro immaturità, ma anche da una maggiore aggressività. Forse dovuta anche alla chiusura della determinata pandemia, però in effetti l'ultimo anno è stato abbastanza preoccupante per questo tipo di comportamento dei ragazzi. Il questore ha sottolineato la necessità di rivedere la legislazione penale che riguarda i minorenni, abbassando l'età imputabile. Tra i temi affrontati oggi, anche quello dell'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra. C'è stato un aumento esponenziale nei primi giorni. Adesso il numero dei profughi si è stabilizzato, siamo oltre 1.100, ma un leggero aumento quotidiano. Più facilmente gestibili adesso. Più della metà sono quasi tutti minorenni. Minorenni di cui soltanto 40-45 sono non accompagnati. La maggior parte sono minorenni con genitori, con la madre in particolare, o con familiari che si assumono responsabilità. C'è stata una grande attenzione da parte della prefettura, della procura minorenni, quindi vengono gestiti con oculatezza e soglierità.